Festa dei lavoratori di riflessione a Fossa Cessia con la tavola rotonda della CGL sul rilancio della buona occupazione. In Molise nulla è cambiato, troppo lavoro precario, denuncia Tecla Boccardo della Will. Intanto l'arcivescovo Bregantini tuona sul Consiglio dei Ministri, convocato oggi. Ponte del primo maggio rovinato dal maltempo, i molisani ne approfittano per un tuffo nella cultura visitando i musei aperti per l'occasione. Lidi chiusi a Termoli per l'avvio della stagione balneare senza il sole. Regionali, il valore di giunta e maggioranza garantirà la realizzazione dei progetti. Questa la motivazione del sì di Roberto Gravina alla presidenza della regione molise. Il centrodestra pronto al nuovo summit che potrebbe essere risolutivo. Ad un anno dalle regionali in Abruzzo, il centrosinistra corteggia l'esponente del PD Silvio Paolucci. Per il sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chietimena, Paolucci sarebbe il candidato migliore da opporre a Marco Marsilio. Sul Mona, città della giostra, centro storico invaso da 120 camper in occasione del primo raduno. A San Martino in Pensilis torna la carrese, primo al traguardo il carro dei giovanotti. E infine lo sport calcio serie D. Nel penultimo turno del Girona F, gli alto molisani piegano il Monte Giorgio e mantengono la categoria per la quarta stagione consecutiva. Decisivo il prossimo turno per le sorti del Termoli. Eccellenza, campo basso a Valanga sul campo di Pietra. Ben trovati con la nostra informazione e tante le notizie in questa edizione del nostro telegiornale. Ma iniziamo subito con la ricorrenza del primo maggio, festa dei lavoratori nel comune di Fossa Cesia, convegno organizzato dalla CGL. Era presente per noi Pasquale Damiani. Vediamo. In occasione della festa del primo maggio, festa dei lavoratori, la CGL di Chiete e il comune di Fossa Cesia hanno organizzato un importante convegno dal tema alle realtà provinciali tra precariato, povertà, lavoro sommerso e contrasto alla illegalità. Quali politiche per il rilancio di una buona occupazione? All'incontro presenti sindacalisti, sindaci ed esponenti della società civile. Franco Spina, segretario della CGL di Chiete, il precariato, la povertà, il lavoro sommerso e il contrasto alle legalità. Sono temi che la preoccupano? Certo che preoccupano noi, preoccupano ovviamente tutti, in particolar modo i giovani. Perché quando parliamo di precariato, ad esempio, non bisogna mai dimenticare che su dieci nuovi contratti, otto sono a tempo determinato e addirittura quattro hanno una valenza sotto il mese di attività. Ciò significa che quando si parla di somministrazione, si parla di lavoro intermittente, si parla quindi di precariato diffuso, sicuramente bisogna fare in modo che questo sia quantomeno ridotto, perché se poi parliamo delle politiche della famiglia e soprattutto delle politiche che riguardano i giovani, lo sviluppo di questo territorio, se non si dà un lavoro buono, di qualità e stabile, diventa complicato dire che i giovani debbono rimanere in questa terra. Il sindaco di Fossacesia Enrico Di Pietrantonio si è soffermato sulle azioni da intraprendere per rilanciare il lavoro. Innanzitutto il rispetto delle regole e poi favorire ovviamente gli investimenti che servono nel rispetto sempre delle regole, dare spazio ai giovani, una prospettiva di sviluppo del nostro paese. Insomma, fondamentalmente sono i principi sanciti dalla Costituzione, principi che vanno sempre e comunque rispettati. Comunque c'è un'evoluzione in positivo del sistema lavoro del nostro paese. Certo, bisogna capire le morti sul lavoro, il non rispetto delle regole, come dicevo all'inizio di questa nostra conversazione, ovviamente pongono problemi ancora più seri. Il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, ritiene che sia una festa per fare riflessioni sul mondo del lavoro. Sul lavoro, sulle opportunità di lavoro, sul rilancio del lavoro, sui diritti dei lavoratori, ma soprattutto sull'impegno politico dei governi, del governo regionale, del governo nazionale, affinché si creano le giuste condizioni, soprattutto in questa provincia. Quattro i grandi temi importanti, infrastruttura, ambiente, sicurezza, sanità e per quanto attiene il turismo sicuramente fogne, acqua e bianche, risorsa idrica. Non si può fare turismo se non c'è acqua nei rubinetti, non si può pensare di essere competitivi se non c'è investimento nelle infrastrutture, in sicurezza, sanità e ambiente. La festa dei lavoratori non è una ricorrenza ideologica, ma un caposaldo di civiltà che impone oggi una riflessione ad ampio raggio, trasparente e concreta, così il presidente della regione Molise, Donato Toma, sul 1 maggio. L'Italia è fondata sulla cultura del lavoro, aggiunge l'attività di produzione e quella intellettuale sono ancora i motori dell'economia. Tuttavia oggi è piuttosto ampio il divario che ci separa dall'effettiva realizzazione dei dettami della nostra Costituzione, soprattutto nelle regioni del Sud. Per questo il mio pensiero è rivolto in via prioritaria a chi non ha un'occupazione, a chi l'ha persa e a chi la sta cercando. Opponiamoci con forza a qualsiasi forma di sfruttamento, isoliamo chi calpesta i diritti, conclude la nota del presidente Donato Toma. I dati INAIL evidenziano una crescita degli infortuni sul lavoro e anche delle malattie professionali. Promuovere la cultura della sicurezza è una priorità per la Scuola Nazionale Edili del Molise. Il servizio. La sicurezza sul lavoro è uno degli indici più qualificanti e più significativi del grado di civiltà e del livello di progresso raggiunto da una società. Nella regione Molise i dati INAIL relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro restituiscono una realtà non in linea con la media nazionale. Gli infortuni denunciati sono cresciuti del 40% tra il 2021 e il 2022. A crescere in maniera costante dal 2021 anche le malattie professionali registrate dall'INAIL. Se andiamo a vedere l'aumento degli infortuni raffrontando il 2022 al 2021, vediamo che in Molise gli infortuni sono circa una volta e mezzo la media nazionale, mentre le malattie professionali sono addirittura circa tre volte la media nazionale. Questo può significare che la ripresa economica non sta dando i frutti attesi in termini di sicurezza. È una ripresa probabilmente stressata dai costi e dalle esigenze di risparmio e penalizza le maestranze. Promuovere un dialogo istituzionale per la diffusione della cultura della sicurezza è da sempre una priorità per la scuola edile del Molise, diretta da Nicola Messere che ha illustrato i progetti ed il sicuro INAIL e trasformazione che coinvolgerà anche le scuole. Già dalla parola si capisce che è un progetto che parla di rigenerazione urbana, di riqualificazione, di tutti i sistemi innovativi che sono emersi negli ultimi vent'anni nel nostro cantiere, con dei workshop e dei seminari a favore delle imprese. Dentro questa trasformazione c'è un progetto che si chiama EDIL MOVI. La scommessa da vincere soprattutto per la scuola edile del Molise che è l'ente unico di formazione per la regione molise sulla sicurezza dei luoghi di lavoro è quella di non avere più infortuni nel mondo dell'edilizia, di ridurre i rischi veramente al minimo e che non ci siano più infortuni mortali. Ad incidere sulla sicurezza anche la precarietà del lavoro che spesso non consente di formare i lavoratori in modo adeguato. Avere un operaio che fa 30 anni di lavoro in questo settore è raro, è rarissimo, quindi avremmo bisogno di avere molta più continuità lavorativa. Quanto ai contratti? Un dammico contrattuale, oltre ad arrecare danno a tutto il sistema dell'edilizia, delle imprese, arrecà danno anche da un punto di vista della sicurezza, perché spesso e volentieri dietro quegli contratti più o meno pirati o contratti più o meno legali e illegittimi si nasconde il lavoro nero. Sbagliato il Consiglio dei Ministri il primo maggio, una festa conquistata e si rispetta. Queste le dure parole dell'arcivescovo di Campobasso Giancarlo Brigantini, intervistato oggi dal Fatto Quotidiano in riferimento alla riunione del Consiglio dei Ministri in programma oggi per approvare il decreto lavoro che prevede il taglio del cuneo fiscale contributivo, la cancellazione del reddito di cittadinanza dal 2024 e l'introduzione dell'assegno di inclusione. Il provvedimento prevede anche l'introduzione dal prossimo primo settembre dello strumento di attivazione al lavoro. Non avrei fatto il Consiglio dei Ministri nel giorno della festa del lavoro, ha sottolineato il Vescovo Brigantini, membro della Commissione della Conferenza Episcopale Italiana per i problemi sociali e lavoro, che ha lanciato un nuovo appello alla politica. Il lavoro deve essere degno, non povero. E restiamo in argomento lavoro, non è cambiato nulla, c'è ancora troppo precariato, così la numero uno della Will del Molise, Tecla Boccardo. Sentiamo. Primo maggio, non solo una ricorrenza per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, ma anche occasione di riflessione profonda in cui fare il punto sulla situazione occupazionale del Molise, dove, denuncia Tecla Boccardo, segretaria regionale della Will, non è cambiato nulla, c'è ancora troppo lavoro precario. Non è un primo maggio di festa questo per i lavoratori, ma per noi è un primo maggio di impegno, di lotta e di mobilitazione. In Molise la situazione precaria del lavoro, del lavoro che non c'è, continua ad essere quella che era un po' di anni fa. Non è cambiato nulla, noi vorremmo più certezze per i lavoratori e più stabilità per coloro che sono precari, ma soprattutto lavoro per i giovani che sono costretti ad abbandonare questa terra, lavoro per le donne che sono spesso disoccupate, anche per mancanza di servizi strutturali, e quindi la campanella è squillata. Basta promesse, cominciamo a lavorare sodo ad un Molise che deve rinascere, che si deve sviluppare, che deve dare opportunità agli uomini e alle donne di questa terra. Complice il maltempo, è stato un primo maggio all'insegna della cultura in Molise, in tanti alla scoperta dei musei e della storia del Molise. I centri principali della regione pronti ad accogliere i visitatori in questo weekend lungo. Purtroppo il maltempo ha modificato i piani litinerari, ma non sono mancati comunque coloro che hanno voluto approcciare i Molise visitando i luoghi di valenza storica aperti per l'occasione. Se sulla costa gli ombrelloni sono rimasti chiusi e gli eventi annullati, nel capologo regionale il Museo Sannitico e il Museo di Palazzo Pistilli, aperti da questa mattina, sono stati centro di attenzione di visitatori provenienti da diverse regioni, e tra questi anche qualche visitatore dall'estero. Vediamo un pubblico sia di nicchia, ma tanti anche giovani, tanti anche persone che iniziano a riscoprire i bei reperti che abbiamo qui nel Molise, che è importante anche per riscoprire le proprie origini e la propria cultura. Devo dirvi la verità, ho appena fatto la visita dei tre piani, bellissimi reperti, effettivamente ne vale la pena venire qui a Campobasso e vederlo, perché effettivamente è un bel patrimonio. Io vengo da Roma, sono di origine siciliane, quindi sono vicino perché effettivamente sono pochi chilometri, e stiamo cercando di scoprire appunto il Molise, che è una di quelle regioni dove dice ma effettivamente cosa c'è in Molise, ma ci stiamo accogliendo che veramente c'è tanta roba, quindi il suggerimento che do è di venire effettivamente, perché veramente dal punto di vista culturale, dal punto di vista ecogastronomico, c'è una roba veramente impressionante. Bellissimo, molto 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 interessante, poi c'è una guida che ci sta dando delle informazioni dettagliate e preziose. È la prima volta abbiamo sfruttato il ponte del primo maggio per venire a vedere il Molise, e in particolar modo le sue peculiarità, in questo caso il Museo Sannitico. Stiamo visitando e siamo affascinati da questo museo, con la sua storia dei sanniti, di arti e tradizioni, ci piace molto insomma. Probabilmente ha inciso questo fatto che oggi non sono gratuiti, l'ingresso non è gratuito, però ritengo che sia anche il tempo che non ha accompagnato, quindi non ha invogliato la gente ad uscire e quindi a recarsi anche nei luoghi della cultura. L'affluenza è sicuramente diversa da quella del 25 aprile. Ed ora la politica. Ad un anno dalle regionali in Abruzzo, il centrosinistra corteggia l'esponente del PD Silvio Paolucci. Per il sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chietimena, Paolucci sarebbe il candidato migliore da opporre a Marco Marsilio. Ad intervistare proprio il capogruppo PD della regione Abruzzo, questa mattina il collega Pasquale Damiani. Sentite. Si parla molto già delle prossime elezioni regionali. Il sindaco di Chieti, nonché il presidente della provincia, ha lanciato l'assist proprio nei suoi confronti, quindi sarà lei l'uomo giusto per opporsi a Marsilio? Ovviamente queste scelte stanno ai partiti, a partire dal Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e anche a tutte le altre forze, perché solo con un'alleanza larga è possibile costruire un progetto che possa contendere il risultato a questo governo regionale. Proprio oggi, festa dei lavoratori, non possiamo non essere presenti, ma allo stesso tempo sottolineare il fallimento della giunta regionale. 10.000 posti di lavoro persi nel solo 2022. È ancora un tessuto e un sistema produttivo che non riesce a tenere perché tutte le risorse che la programmazione può mettere in campo sono ferme al palo per l'assenza di un'iniziativa politica credibile della giunta Marsilio. Gli altri dati che ci preoccupano sono quelli sulla sicurezza. L'Abruzzo purtroppo anche in questo caso è maglia nera in questo Paese perché non si sono attivati tutti quei protocolli, quelle scelte, quelle iniziative, quelle politiche in grado di dare risposte e sicurezza ai lavoratori. Passiamo alle regionali della regione Molise. Il valore di giunta e maggioranza garantirà la realizzazione dei progetti. Questa è la motivazione che ha spinto il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ad accettare la candidatura alla presidenza della regione Molise. Ora sono più consapevole del ruolo. Le sue prime parole. Sentite. Ringrazia partiti e forze civiche per averlo individuato come l'uomo giusto e cita le parole ascolto e inclusività vestendo così i panni del capo di una coalizione, quella progressista, che è intenzionato ad ampliare maggiormente da subito. Roberto Gravina parla per la prima volta da candidato governatore del Molise e con poche righe spiega il motivo che l'ha spinto ad accettare l'investitura ufficiale voluta dai partiti territoriali di centro-sinistra e dai leader nazionali, DPD e 5 Stelle, Schlein e Conte, ovvero la certezza che il Comune di Campobasso continuerà a veleggiare grazie alle basi gettate in questi quattro anni. Accogliere l'invito che mi è pervenuto anche direttamente dai leader nazionali, ha dichiarato Gravina, è stato possibile grazie alla consapevolezza del valore politico, amministrativo e umano della Giunta e della maggioranza che hanno sostenuto il nostro percorso amministrativo. Il Comune di Campobasso continuerà a programmare e a realizzare progetti importanti per il bene della comunità, a prescindere da me. Chiarisce che non si tratta di una mancanza di coerenza, quindi, ma di un mettersi al servizio, peraltro dopo un corteggiamento serrato da parte degli alleati e alla certezza anche dei vertici del suo stesso movimento, che la sua è l'unica figura gradita trasversalmente e peraltro temuta anche dagli avversari. L'essere stato indicato e ritenuto degno di una fiducia personale e politica così ampia e condivisa, ha continuato Gravina, della quale ringrazio tutti i soggetti politici e sociali che hanno impostato e sostenuto il dialogo, mi rende ancora più consapevole di quanto sia importante il ruolo che sono stato chiamato a ricoprire. E Roberto Gravina sarà sostenuto in maniera compatta da tutti i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, a cominciare dal capogruppo Andrea Greco, che dice, rivendico con orgoglio il fatto di essermi battuto affinché il candidato presidente della coalizione progressista fosse un profilo politico con le idee chiare e il coraggio di prendere decisioni importanti sin dal primo istante, perché a richiederlo è il Molise, sono i molisani. A mio avviso, prosegue Greco, bisognava fare uno sforzo per trovare il miglior punto di caduta all'interno del Consiglio regionale. Una strada che il presidente Conte ha cercato di percorrere, portando convintamente al tavolo della coalizione in prima battuta il mio nome, su cui c'è stato il veto da parte di qualcuno. Sono contento, conclude Greco, però che a superare questo ostacolo sia stata una figura di sintesi come Roberto Gravina. Gli faccio il mio in bocca al lupo, gli starò accanto e lo sosterrò con tutte le forze. Sulla stessa lunghezza d'onda, il consigliere Angelo Primiani, per dare seguito all'azione portata avanti in Consiglio regionale, era necessario che il candidato presidente dell'area progressista fosse un giovane con esperienza politica e slegato dai soliti schemi. Questo invece è il commento di Vittorio Nola. L'avvocato Roberto Gravina saprà certamente sviluppare tutto il potenziale dell'intera coalizione con un'azione incisiva e di forte coordinamento organizzativo e logistico. Dal centro-sinistra al centro-destra, Fratelli d'Italia convocherà a breve il nuovo confronto con i rappresentanti dei partiti della coalizione per fare sintesi sul candidato alla presidenza. Intanto Micone sottolinea che devono decidere i partiti ascoltando il territorio. Sentiamo Stefania Potente. Dopo l'accelerata del centro-sinistra che ha bruciato i tempi ufficializzando il proprio candidato presidente, anche il centro-destra prova a tenere il passo. La settimana che si aprirà dopo il ponte del primo maggio dovrebbe essere decisiva. I rappresentanti della coalizione attendono la convocazione ufficiale da parte del deputato Giovanni Donzelli, il responsabile nazionale dell'Organizzazione per Fratelli d'Italia. Un vertice che dovrebbe essere risolutivo anche se la rosa dei nomi dei papabili all'investitura alla guida dello schieramento di centro-destra resta folta. Otto gli aspiranti governatori proposti dai partiti nell'ultimo tavolo romano, ma tra questi probabilmente c'è qualcuno in vantaggio rispetto agli altri. Francesco Roberti, ad esempio, sindaco di Termoli, presidente della provincia di Campobasso ed esponente di Forza Italia, partito che tradizionalmente indica in Molise il candidato alla presidenza della regione. Roberti non ha un mistero, è anche molto vicino al senatore di Fratelli d'Italia, Costanzo della Porta, e potrebbe essere sponsorizzato da lui. Trovare una sintesi non sarà comunque facile e secondo i ben informati del centro-destra non arriverà prima del prossimo fine settimana, come conferma il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, nonché esponente di spicco del centro-destra, ai microfoni di Pierluigi Boragine. Non siamo in grado di dire nulla sul nome del candidato finché i partiti riescono a far sintesi su questo nome. Deve decidere il territorio, deve decidere Roma. La decisione la devono prendere i partiti, perché i partiti lavorano intorno al tavolo anche per la realizzazione del programma, per le azioni programmatiche che poi la coalizione vincente deve portare avanti. Quindi i partiti lo devono fare ascoltando anche il territorio. E che abbiamo decisamente argomento, ci spostiamo a San Martino in Pensilis, dove è stato il carro dei giovanotti a tagliare per primo il traguardo al termine della carrese che si è svolta ieri pomeriggio. Al secondo posto sono arrivati i giovani, i terzi, i giovanissimi. I tre carri hanno rinnovato la tradizionale corsa dei buoi in onore del santo patrono San Leo che nonostante la pioggia ha preso il via dopo la cerimonia di benedizione ufficiata dal parroco Don Nicola Mattia. Dopo il colpo di pistola sparato in aria dalla sindaco Gianni Di Matteo, l'appassionante gara entrata nel vivo si è snodata lungo un percorso di 5 chilometri fino alla vittoria del carro giallorosso che anche l'anno scorso è salito sul primo gradino del podio. Poi esplosa la festa in un clima di gioia ed entusiasmo. Tantissime le presenze a San Martino in Pensilis, diversi visitatori che hanno voluto assistere alla carrese arrivati non solo dal Molise ma anche da altri centri di fuori regione. Presenti anche le autorità istituzionali, in primis il presidente Donato Tome, l'assessore Quintino Pallante, imponente il dispiegamento di forze dell'ordine presenti per garantire la sicurezza della manifestazione. riscattare il basso Molise finora tenuto ai margini dalla politica regionale. Così Antonio Tomei, candidato sindaco di Guglionesi nel cuore, la lista sostenuta dal centro-sinistra. Sentiamo. Al suo fianco ci sono i big del centro-destra, a cominciare da Costanzo Della Porta, senatore di Fratelli d'Italia e sindaco di San Giacomo degli Schiavoni. Aspira a conquistare lo scranno più alto del municipio di Guglionesi, anche Antonio Tomei, che con la sua lista Guglionesi nel cuore, ci riprova sfidando Gianfranco Del Peschio, aspirante cittadino sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dal PD, anche quest'ultimo candidato alle amministrative del 2018 come Tomei. Ora sono l'uno di fronte all'altro nel duello che interessa la guida del municipio nel comune Basso Molisano alle elezioni del 14 e del 15 maggio prossimi. Tomei, 65 anni, ha presentato squadra e programma al Teatro Fulvio. La squadra è un mix di competenze, un mix di giovani e gente esperta che già ha avuto esperienze amministrative sia nell'ultima consigliatura che in quelle precedenti. Rilanciare un territorio lasciato ai margini dalla politica regionale è uno degli obiettivi del candidato sindaco di Guglionesi nel cuore, che spiega anche le priorità della sua azione amministrativa. La prima cosa da fare è cercare di riorganizzare gli uffici per renderli più efficienti, approfittare dei finanziamenti del PNRR per quanto riguarda alcune infrastrutture, cercare di rimettere al centro, al centro guglionesi del territorio del Basso Molise che in questi ultimi anni è stato marginato. Era libero dal servizio ed è intervenuto salvando la vita ad una donna precipitata in un dirupo a seguito di un incidente stradale avvenuto a Spoltore nel novembre del 2020. Con queste motivazioni l'amministrazione comunale di Spoltore in provincia di Pescara ha consegnato un attestato di merito all'assistente della Polizia di Stato Nicola Delmedico in servizio presso la squadra Cinofili della Questura di Pescara. Il poliziotto eroe ha salvato la vita ad una donna dando prova di determinazione e coraggio senza alcun indugio ha raggiunto e liberato la donna intrappolata nell'abitacolo e le ha prestato i primi soccorsi. Così si legge nel riconoscimento assegnato a Delmedico. E restiamo in Abruzzo andiamo a Sulmona Sulmona, città della giostra per il primo raduno camper. Sentiamo Sabrina Giangrande. A Sulmona in provincia dell'Aquila il primo raduno camper Sulmona città della giostra. Tanti appassionati camperisti hanno sistemato il proprio camper in piazza Garibaldi la piazza principale di Sulmona la terza più grande d'Abruzzo situata in pieno centro storico. Tre giorni colmi di eventi musica, spettacoli con stand enogastronomici dove degustare tante eccellenze della tradizione culturale abruzzese. Un'occasione per vivere in anteprima le atmosfere della giostra cavalleresca con l'esibizione del gruppo dei musici e sbandieratori che daranno un assaggio della manifestazione che si svolge ogni anno tra fine luglio e i primi di agosto sempre nella medesima piazza. Promotrice dell'evento l'associazione giostra cavalleresca in collaborazione con Shosson Italia, Blue Point dell'Aquila e Green Camper di Sulmona con il patrocinio del comune di Sulmona e della fondazione Carispac da sempre sensibile alle attività territoriali. Il primo raduno è stato bellissimo 197 camper, forse di più chissà quanti non si sono iscritti ma che si sono incolonnate alla nostra colonna il primo traguardo è stato un successo vogliamo fare il secondo vi auguriamo buon viaggio in Italia con Shosson. Un evento unico senza dimenticare che sono i benvenuti anche gli amici a quattro zampe che possono vivere un'esperienza nella più totale tranquillità. Invitiamo tutti i camperisti a venire l'ultimo weekend di luglio a Sulmona o eventualmente il primo weekend di agosto vi aspettiamo e vedrete qualcosa di veramente bello perché è una delle poche manifestazioni che si svolge all'interno di un centro storico. Scadranno mercoledì 3 maggio i termini per presentare le domande per usufruire dei servizi scolastici di trasporto, rifezione e pre-interscuola per l'annualità 2023-24 lo rende noto il Comune dell'Aquila. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito internet dell'ente mentre le domande devono essere effettuate online. L'assessore Emanuela Tursini ribadendo che l'amministrazione comunale ha anticipato i termini rispetto al passato per l'emanazione del bando sottolinea l'importanza che le istanze vengano presentate entro mercoledì 3 maggio per permettere agli uffici un'idonea organizzazione dei servizi e per evitare ritardi poi nell'erogazione degli stessi. Bene, ed ora scopriamo insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani. Previsioni del tempo per martedì 2 maggio Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzone o temporali in attenuazione nel corso della serata. Venti deboli mare molto mosso diamo uno sguardo alle temperature Campobasso 11 la minima 15 la massima Isernia 13-16 Termoli 15-16 Venafro 14-16 gradi In Abruzzo la circolazione depressionaria responsabile di acquazzone e temporali in attenuazione allenta la presa favorendo tempo piaciuto dalla sera Venti deboli mare molto mosso diamo uno sguardo alle temperature L'Aquila 11 la minima 15 la massima Pescara 15-16 Chieti 13-16 Teramo 13-15 gradi Ci aspettano dunque ancora condizioni di tempo instabile questa era la nostra ultima notizia adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità ma restate con noi perché subito dopo c'è lo sport a tra poco Ben ritrovati con lo sport in apertura la serie D con l'aiuto della grafica scopriamo insieme i risultati della 33esima giornata del Girone F Alma Juventus Fano Chieti 1-0 Avezzano Trastevere 1-2 Fecimatese Cinzia Balba Longa 1-1 Portodascoli Tolentino 1-2 Finisce 0-0 tra Roma City e Pineto Termoli 1920 San Nicolò Notaresco 0-0 Vastese Team Nuova Florida 1-0 il Vasto Girardi vince 2-0 sul Monte Giorgio e poi Vigor Senigallia San Benedettese 5-2 la classifica vede in testa il Pineto con 69 punti seguono Vigor Senigallia 67 Trastevere 61 Alma Juventus Fano 57 Cinzia Balba Longa 49 Fecimatese 47 Portodascoli 44 San Benedettese Chieti 43 Vasto Girardi e Team Nuova Florida 42 Avezzano 40 Roma City 37 Vastese 36 il Termoli 31 come il San Nicolò Notaresco e poi a 28 Montegiorgio e Tolentino e dunque con un gol per tempo il Vasto Girardi centra la salvezza nel torneo di Serie D e festeggia davanti ai propri tifosi al termine del match contro il Montegiorgio il servizio è di Vincenzo Ciccone Il Vasto Girardi festeggia la salvezza matematica con un turno di anticipo davanti ai propri tifosi assiepati sulle tribune del Ditella contro il Montegiorgio con un gol per tempo gli Altomolisani vengono fuori da una giornata che dalla pioggia e nebbia del primo tempo passa al sereno della ripresa trascorrono due minuti e l'undici di Coletti sblocca il match con una rasoiata di Hernández Perez i marchigiani provano a farsi pericolosi con un colpo di testa senza forza di Tencorang al ventontesimo con una prima frazione che non regala altri spiragli nella ripresa con la nebbia diradata vengono fuori ulteriormente gli Altomolisani che ci provano con fiori Forconesi blocca l'estremo marchigiano non può nulla però al sessantasettesimo quando Hernández Perez mette in moto McNeil la cui conclusione di potenza bacia prima la traversa e poi finisce in fondo al sacco al termine così è festa grande per i giallocelesti che davanti a loro avranno l'opportunità del quinto torneo consecutivo in D giusto premio all'azione concreta di un club sempre pronto a lavorare con competenza e grande piglio Dai festeggiamenti del Vasto Girardi alla situazione del Termoli che rischia di farsi preoccupante dopo il pari interno senza reti con il San Nicolò Notaresco i giallorossi tra l'altro nella sfida di domenica prossima dovranno fare a meno anche del portiere Lombardo dopo il rosso rimediato nel match del Cannarsa termina con il diciannovesimo pareggio della stagione l'ultimo impegno interno del Termoli che al Cannarsa fa 0-0 contro il San Nicolò Notaresco e resta sulla graticola tra play-out e retrocessione diretta con l'epilogo del percorso che si conoscerà solo domenica prossima per i giallorossi peraltro l'avvio è rischioso con scimia pericoloso per gli abruzzesi al decimo prova a rispondere El Wazni ma la sua conclusione è troppo lenta al sedicesimo l'undici Di Martino deve ringraziare il proprio portiere Lombardo prodigioso sul romano ancora El Wazni si fa vedere per i giallorossi ma Shiba para ripetendosi anche sul tentativo dalla distanza di Corcione al 34esimo prima della fine del tempo al 43esimo Lombardo è determinante sull'inzuccata di Forcini nella ripresa il Termoli prova ad alzare i ritmi facendosi vedere con Corcione e due minuti dopo con un colpo di testa di El Wazni che coglie la traversa si fa vedere quindi Cagliazza dalla distanza Shiba si salva in due tempi e prima della fine i padroni di casa rischiano la frittata complice l'espulsione del portiere Lombardo che interviene così su Cardinali lanciato a rete ultima istantanea di una contesa prologo alla trasferta di Ardea di domenica prossima sul rettangolo di gioco del team Nuova Florida dalla serie D all'eccellenza con i risultati della ventinovesima giornata Sesto Campano Gambatesa 3 a 0 Alto Casertano Venafro 6 a 0 Ururi Castel di Sangro 0 a 3 Boiano Limpia Gnionese 1 a 0 Campobasso Campo di Pietra 19 a 0 Campomarino Pietra Monte Corvino 5 a 1 Isernia Turris 4 a 1 Virtus Gioese Real Guglionesi 3 a 2 Vediamo la relativa classifica di eccellenza in testa il Campobasso con 81 punti seguito dall'Isernia con 79 e in grafica vedete tutti gli altri punteggi della classifica Un Campobasso straripante mette a segno come abbiamo visto ben 19 reti contro il Fanalino di coda Campo di Pietra l'ultima di campionato contro la Turris si potrebbe giocare a Boiano intanto vediamo gli highlights del match curati dall'ufficio stampa Rosso-Blu dalla Selva Piana è la 29esima giornata la penultima e l'ultima fra le mura amiche del nostro stadio si affrontano Campobasso e Campo di Pietra poi c'è il gol di Ripa attenzione immediatamente il gol di Ripa verde il pallone poi per Filannino che riparte da Garofali sbaglia il tocco l'estremo difensore Fazio il mancino di Fazio 2 a 0 è buono il pallone per Franchi attenzione Franchi prende il tempo all'estremo difensore Franchi tutto regolare Franchi a porta vuota 3 a 0 intanto Ripa fa 4 a 0 il calcio di punizione poi Franchi si inserisce Franchi pallone per Lombari in area di rigore Lombari il destro di Lombari il gol di Andrea Lombari Franchi si accentra l'1-2 con Cicciori Pabello ancora Franchi col piattone il gol di Franchi prova ad andare da solo allora Tordella Tordella in area di rigore Tordella col piattone Tordella poi Franchi ancora l'incursione del centrocampista la serie la testa di Ripa tripletta di Ciccio Ripa Di Leo prova ad entrare Di Leo in area di rigore buono il pallone per Ripa 9 a 0 Ripa può andare Ripa col mancino esce a vuoto Garofalo ancora Ripa in area di rigore palla per Lombari porta sguarnita Lombari prova la conclusione Andrea Lombari è bello il pallone per Franchi tutto regolare ancora Franchi in area di rigore cerca il tocco per Ripa arriva Ciccio Ripa Tordella vede il movimento di Franchi ancora Franchi con la testa Garofali poi Ciccio Ripa in pallonetto la rete del campo basso Guillari la verticalizzazione lo scarico di Ripa poi Anastasia la conclusione di Anastasia e la rete di Mattia Anastasia Palla per Franchi siamo in area di rigore pallone dentro rinviato però Guillari tenta l'acrobazia Guillari che gol Manuel Guillari al Bebi al Bebi centrocampista che se ne va ancora Anastasia il tocco per Ripa è tutto regolare Ripa uno contro uno Ciccio Ripa ancora Ripa salta il portiere e in fila il 15 a 0 Ciccio Ripa ancora Ciccio Ripa sul primo palo allontana però di testa la retroguardia del campo di pietra anche se si resta lì ancora Ripa Franchi pallone in alto Ciccio Ripa anche il gol in acrobazia di Ciccio Ripa se la trova un po' indietro poi riesce comunque a metterla dentro allontana però Filannino Tordella può provare la conclusione a girare Tordella che gol di Tordella Franchi uno due di Franchi si appoggia centralmente da Guillari che chiude la triangolazione con l'esterno del piede Franchi pallone per Traoré il gol di Axel Traoré finisce qui la ventinovesima giornata tra Campobasso e Campo di Pietra è 19 a 0 Noi siamo in Campobasso Noi siamo in Campobasso Noi siamo in Campobasso Ed ora la promozione vediamo insieme i risultati di quella che è la ventinovesima giornata partita sospesa tra Polisportiva Fortore e Altilia Samnium poi Baranello Spinete 2 a 3 Poise Varano Polis Spetacciato 6 a 0 Cliternina Esernia Fraterna 0 a 1 Danchi Sagnone Trivento 2 a 0 Montenero Juvenes 2 a 0 Roccaravindola Ripa Limosani 2 a 5 Termoli Atletico San Pietro in Valle 2 a 0 e quindi diamo uno sguardo alla classifica e facciamo qualche riflessione Polisportiva Fortore matematicamente promossa in eccellenza con 70 punti invece Trivento e Montenero matematicamente ai play out e invece in fondo alla classifica Polis Petacciato con 11 punti Altilia Samnium con 4 sono matematicamente retrocesse in prima categoria Ed ora la pallacanestro un successo di 27 che vale più di un'ipoteca sul successo finale nel torneo di serie B sabato all'arena la molisana Magnoli a Campobasso ha fatto sua la gara della serie di finale play off contro il Senigallia ovviamente felice a fine contesa il coach delle Campobasane Francesco Dragonetto già proiettato a gara 2 di giovedì nelle Marche sentiamo Francesco Presutti coach complimenti vittoria nettissima in questa gara 1 nettissima perché le ragazze hanno applicato su ogni punto il piano partita avevamo lavorato in questa settimana per prepararla al meglio su tutte le loro qualità della squadra di avversaria ma sono venute fuori le nostre qualità le qualità di tutte e non solo di Kinonez ma di tutta la squadra questa è la mia più grande soddisfazione perché dentro è vero abbiamo aggiunto Blanca in questo gruppo che non si era mai allenata durante tutto l'anno con loro e oggi invece sono state veramente brave perché Blanca ha dato il suo apporto ma le altre hanno dato tutte quante quello che dovevano dare per farci arrivare a questo bellissimo risultato di gara 1 che ci fa andare sicuramente a gara 2 a Senigallia con grande fiducia gara 2 giovedì Francesco sì gara 2 giovedì come dico sempre i pre-off hanno una storia a sé si azzera tutto può succedere di tutto giovedì però noi già l'abbiamo dimostrato anche a Perugia se andiamo con concentrate e mettiamo in campo le nostre qualità non ce n'è per nessuno e quindi credo che le ragazze devono solo stare attente a non sbagliare il piano partita come detto molto probabilmente io non ci sarò perché sarò impegnato con la finale nazionale under 15 ma è la stessa cosa ci sarà Mimmo Sabatelli in panchina che alla fine siamo un unico gruppo un'unica squadra come lo sono le ragazze lo siamo noi dello staff e sicuramente le ragazze andranno a Senigallia giovedì con l'idea di non riportare la serie qui a Campobasso il percorso è ancora lungo però possiamo dire coach che tra prima squadra e tutte le giovanili è stata una stagione davvero incredibile ma assolutamente sì perché sono venuti fuori dei risultati importanti è cresciuto tutto il settore giovanile oltre alle prime squadre la serie B e la serie A adesso ci apprestiamo a fare un'altra finale nazionale con l'under 15 che non avevamo messo non avevamo messo per niente in preventivo però sono state molto brave le ragazze è vero che abbiamo lì anche lì adesso possiamo dire una top player come Baldassare in quel gruppo però l'apporto di tutte quante anche lì è stato fondamentale senza la squadra non si va da nessuna parte questo è il mio credo è quello che dal primo giorno ho provato a infondere alle ragazze a comunicarlo e loro devo essere sincero stanno facendo veramente bene perché stanno giocando di squadra sono un bel gruppo dentro e fuori dal campo proseguiamo velocemente con il basket di Cigold con i risultati della nona ed ultima giornata e vediamo in particolare il risultato delle molisane nuovo basket aquilano Ertermoli 77 a 75 New Fortitudo Isernia Olimpia Mosciano 79 a 61 quindi per quanto riguarda i verdetti finali dalla classifica il Roseto è promosso in Interregionale con 44 punti Amatori Pescara New Fortitudo Isernia nuovo basket aquilano e vasto basket ai playoff tutte le altre formazioni ammesse alla C unica e chiudiamo lo sport parlando del Coppa Italia di Baskin con le finali ospitate a Campobasso e Servizio con le finali di questa mattina si è conclusa l'intensa due giorni del concentramento di qualificazione alle finali di Coppa Italia di Baskin in programma a fine maggio a Monte di Procida Ferentinum Napoli Corato e Roma si sono date battaglia nel capologo di regione per un evento che oltre all'aspetto di inclusione sociale è stato anche un'occasione di formazione con un convegno in cui si è parlato di sport a tutto tondo e di inclusione sociale ancora una volta pertanto il capologo di regione ha saputo mettersi in vista per un evento che ha rappresentato un unicum ed un'occasione di promozione di una disciplina a tutto tondo che partendo dal basket riesce a coniugare diversi aspetti con il Florentinum che si è posto a pieno titolo come riferimento assoluto per la disciplina sul territorio regionale merito del lavoro a tutto tondo portato avanti dal professore Umberto Anzini Ed è davvero tutto anche con lo sport grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi arrivederci grazie per aver guardato